Il video su Teo Hernandez, ragazzi, che ho pubblicato, sta andando anche bene, grazie per le condivisioni, contiene anche una nota preoccupante, ovvero ho spoilerato quello che è il nome di uno dei due procuratori importanti che ha messo gli occhi su Teo Hernandez ed è Mino Raiola. È un nome che è rindondante nel mondo milanista e soprattutto nella testa di noi tifosi che siamo preoccupati, visto la vicenda e l'epilogo, Donna Rumma, nonché altre situazioni in essere. Un procuratore scomodo, quindi io mi auguro seriamente che Teo Hernandez, legato al mondo Milan, legato alla squadra, legato a Pioli, legato a Maldini, non cada mai in tentazione di farsi rappresentare da Mino Raiola. La Chillon sta proponendo il Milan il rinnovo proprio per evitare che ci siano interferenze. Speriamo che Teo Hernandez confermi con una firma quanto di buono sui social in campo sta dando a noi del Milan.